ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video capita che durante la giornata soprattutto la sera post cena sentiamo quella voglia di dolce irrefrenabile ma molto spesso blocchiamo questa voglia solo al pensiero delle quantità di calorie presenti all'interno del dolce stesso ma noi oggi di mamma style vogliamo proporti un tortino al cioccolato dal cuore caldo light si prepara in 8 minuti con questi ingredienti in una ciotola versiamo il cacao amaro lo zucchero l'uovo e l'albume il latte ed infine il cioccolato fondente sciolto amalgamiamo per bene gli ingredienti con una frusta a mano quando avremo ottenuto un composto liscio ed omogeneo senza grumi possiamo riempire i nostri pirottini li cuociamo in forno a 150 gradi per 8-9 minuti non appena saranno cotti li lasciamo leggermente raffreddare e poi li possiamo gustare non appena saranno strano Come sempre se ti va lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre ricette visita il nostro sito www.mamastyle.it Grazie per la visione!